Ma cos'è sta cosa? Buongiorno Brighielle! Oggi è sabato 28, sì, sabato 28 novembre e mi vedete conciata così perché adesso sto per uscire con Ale che dobbiamo prendere due o tre cose al supermercato stai fermo, due o tre cose al supermercato e poi dobbiamo andare un attimo in farmacia quindi faccio un attimo di riscaldamento andando appunto a camminare camminata veloce e poi bvg perché ieri l'ho saltata che stavo male però non si salta, si va avanti e intanto vi presento Aldo e Franco i miei nuovi amici Nano, amore, andiamo? Andiamo, di ciao alle Brighielle Ciao Brighielle Ciao, a dopo Sì, ciao, ciao Bene Brighielle, siamo tornati Cosina prese Faccio vedere cosa abbiamo preso Cottoncini per tagliare da smalto Cottoncini struccanti È un ex bimbi per Ale Gana, il grano, eh Per oggi è mezzogiorno Qua c'è il rovito di Ale, ce n'è metà Vedo chiaro perché la mamma non ci vede una mazza Il mitico AZ Pro Expert Prevenzione Superiore Ho fastidio a un dente, si vede È fila interdentale, il Satin Floss Satin, Satin, Satin Floss Satin Floss dell'Ord B Fantastico E proveremo questo colluttorio per denti sensibili Sì, la coppia Sì, ah, tic tacca con Bobbo Bene, basta Questo era quanto? Farmacia, posto, bene Adesso metto via tutto Vado a far gli esercizi Si parte Perché mia mamma mi ha fatto senza il collo? Cioè, io non ho il collo Ho la testa attaccata alle spalle Cioè, il ventuquattresimo momento Caglia degli esercizi per allungare il collo Ti prego Sono ancora buttata nel letto Non si fa, non si fa Via, via, via Bene, è quasi l'una Finalmente mi sono inlevata Ho già male dappertutto Quindi non so come Come sarò ridotta domani È già verso sera Non so se avete visto che Manuel non c'è E... È lavoro È lavoro E oggi abbiamo in programma Di portare Alessandro al Carrefour Perché ci sono Mascia e Orso E lui non si sa quando torna E quindi Mi spiace un sacco Però finché c'è da lavorare Insomma, si lavora Quindi verrà qua la nonna di Manuel Sì, ciao Noemi, ciao Verrà qua mia suocera La nonna di Ale E andremo con lei Verso le quattro e mezza Penso magari riusciremo anche a fare La fottina stavolta Verrà amore Vabbè, adesso ragazzi vado a Preparare il pranzo Perché il naiale ha fame E anche io vi dirò un pochino Ma ma da ragazzi Ho già male dappertutto La vedo veramente Dura Amore Cosa vuoi da mangiare? Cosa vuoi da mangiare? Uppà Cosa vuoi da mangiare amore? Vieni via da davanti alla tv Ehi Ale Dai Ale Che la mamma ha male dappertutto Cosa vuoi da mangiare? No Ma vieni qua Signore Cos'è che vuoi da mangiare? Mangiamo la pasta Guarda che non ti do neanche l'ovetto Cosa vuoi mangiare? Cosa mangi? La pasta La pasta La pasta, di ciao a tutti Ciao a tutti Sono bello come il sole Cosa vuoi? Cosa vuoi? Questa mano Te la mangi Te la mangi Questa mano Brutto nasone A mamma Mi metto Dopo ti do l'ovetto Ale Buon appetito Buon appetito Guarda mamma però Buon appetito Buon appetito Buon appetito Vuoi una mano? Buon appetito Ti do una mano Ti aiuto Con quello grande Cucchiaio Aspetta eh Via il cucchiaio bravo tutto amore è detto che bravo ah hai mangiato tutto perché vuoi lo vetto eccolo lo vetto quello che hai avanzato stamattina dopo vediamo cosa c'è di sorpresa è buono? di grazie la mamma che ti ha preso l'ovetto anche se lo sei preso te mamma che lo ha detto? di grazie e per piacere? per piacere bravo stai seduto bene? mamma che lo ha detto? ecco quello lì tu cosa vuoi? tu cosa vai mendicando? nasona cosa mi indichi? cosa mi indichi? è buono? è buono lo vetto? non è buono lo vetto ma non è buono lo vetto? sì è buono lo vetto è buono lo vetto stai rubando le carote? un altro minio il minio un dracula questo si gira no? un minio un mostro un mostro di dracula bene è meno un quarto delle tre ho appena finito di pulire la cucina ho lavato anche per terra volevo farvi vedere Ale che sta dormendo adesso c'è la lavastoviglie che sta finendo ho appena acceso la lavatrice speriamo non si attira corrette perché voglio accendere chissà cosa anche assieme sta torse mi sa che mi sto anche ammaiando comunque ragazze ho male cioè mi fa male dappertutto gli addominali mi stanno facendo l'ordine e anche qua le braccia mamma che mamma qui qualcuno si è svegliato e sta facendo merenda la sua prima kinder deliz è buona amore come no e l'ordamele se non ti piace la dai a mamma no la mangi te è buona ehi Rufus Rufus ciao amore ben svegliato no la carta amore la si vede qualcosa comunque questi sono i pantaloni di Itazenis che vi dicevo e poi magari vi faccio vedere meglio sì e oggi ho messo i similag perché ho fra dei piedi sono veramente carinissimi i pantaloni guardate sto bimbo cos'ha in bocca cos'hai fatto lì eh ho mani hai le mani sporche no solo le mani sai amore ma non andare dentro col dittino mangialo e basta Dio ma abbiamo ancora il sonno ma adesso andiamo a trovare Mascia e Urso no non vuoi andare a trovare Mascia e Urso no stiamo a casa eh no cosa vuoi fare no no cosa vuoi fare è entrato nella fase aspettate perché mi sono attorcigliata è entrato nella fase dei no ultimamente Ale no no cos'è che vuoi il succo con le bolle vuoi facciamo vedere alle brighiele cos'è il succo con le bolle via il succo con le bolle è questa l'acqua gasata ma ma quel succo della mamma quel succo della mamma o quello tuo quello della mamma quel succo della mamma tenerlo con tutte e due le manine piano è buono sai che ha appena chiamato il papà che arriva andiamo insieme a vedere Mascia e Urso eh no no fai vedere le scarpette fai vedere le ciabattine è tanta sete amore dove vai adesso dove stai andando arriva 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 papà fai vedere le brighiele che fischi oh che bravo salute forcello cosa fa Duda gli hai dato un bacino all'indira oggi Ale hai dato un bacino all'indira oggi basta hai finito non è la giornata rutto e scorreggia libera questa sai hai dato un bacino a Duda e non glielo dai dammelo qua questo lo mettiamo via dai un bacio a Duda adesso se Ale fa il bravo mi preparo un attimo prima che arrivi mia suocera e che arrivino mia suocera Emanuel e cosa faccio oggi non c'è neanche voglia di truccarmi vabbè vedremo dopo vedrete dopo adesso decido il papà è arrivato vediamo se si decide ad andare a cambiarsi e a lavarsi prima che Masha e Orso tornino a casa qua al circo ovvio che vloggo questa casa è un circo un circo Masha e Orso stiamo arrivando guarda gli Ale arrivato il funerale e il visto Ale ma dicami cosa visti non sono belli erano più belli gli altri si molto più bene Brighele adesso stiamo andando a cena andremo cosa andiamo a mangiare Emanuel mani al primo perché la carne fa cagare ecco Emanuel mani al primo perché la carne fa cagare c'è proprio la crema della crema proprio e in un agriturismo mi sembra sì stai già mangiando la pasta era buona la pasta amore adesso hai mangiato tutte le pasta adesso arriva la carne e poi andiamo a mangiare no vai Ale sì fai vedere cos'è questo questo è piccolo cos'è? piccolo cos'è piccolo? l'orso piccolo in entrata è stato qui in mezzo a esposizione è un ufficio mio e allora non ho non ci après qui bevi adesso, salute, viva. Sono le dieci, finalmente siamo a casa, in pigiamati e tutto, adesso andiamo di là a guardarci il best di italesco talent e ci vediamo al prossimo video, ciao.